Amici di Fisco Pop, bentornati per l'edizione 2019, riprende con oggi per questi mesi che ci accompagneranno fino alla dichiarazione dei redditi in cui parleremo di adempimenti fiscali, di novità del fisco, di agevolazioni per i contribuenti e soprattutto daremo informazioni in pillole su cosa dovete fare. Ora siamo a marzo e pertanto uno dei primi adempimenti che ci arriva con la dichiarazione dei redditi è l'invio da parte dei nostri datori di lavoro della certificazione unica. Un documento che viene trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate, sempre come vi ho detto da parte del nostro datore di lavoro e che poi ci consegnerà in copia cartacea anche a noi affinché possiamo fare alcuni controlli. Ecco, oggi parliamo di questo documento, la certificazione unica, che scadeva come trasmissione all'Agenzia delle Entrate il 7 di marzo e che in questi giorni dovrebbero consegnarvi e che dovreste avere in mano per fare gli adeguati controlli. Diciamo una cosa che sembra magari sciocca ma in realtà ha una grande importanza. La certificazione unica deve avere stampato certificazione unica anno 2019. Ovviamente sotto leggerete più in piccolino redditi 2018 perché uno degli errori più semplici, sembrerà strano, è quello di portare la dichiarazione dell'anno precedente, ovvero sia 2018, essendo convinti che sia la dichiarazione del reddito del 2018. E invece è quella del reddito del 2017. Partiamo col primo blocco dei campi e sono quelli relativi alla residenza anagrafica. Se avete fatto cambi di residenza nel corso dell'anno dovete andare a verificare esattamente il comune dove eravate domiciliati. Perché sapete che c'è un'imposta che si chiama addizionale comunale e ovviamente se avete cambiato magari regione è l'addizionale regionale che potrebbero essere diverse sia per quanto riguarda una quota di saldo sia per quanto riguarda la quota degli acconti. Per cui estrema attenzione sui dati anagrafici di quelle che sono le residenze perché vanno a influire in maniera significativa nelle addizionali regionali e comunali.